Benvenuti a Formigine. Siamo in zona Spontini. Io sono Daniele della Tecnocasa di Formigine. Oggi vi presento una bella villa con un terrazzo di oltre 40 metri. Andiamo a vedere. Eccoci all'interno di questo immobile dove troviamo un salone veramente grande di 45 metri, la cucina separata e al reparto notte con diverse camere. Eccoci alla fine del video. Vi saluto da questo meraviglioso terrazzo. Villa accessoriata da un garage doppio, un giardino di oltre 200 metri, oltre ai locali servizi tipo tavernetta, bagno e cantine. Per fissare una visita privata potete contattarmi ai numeri oppure venitemi a trovare in ufficio. A presto!